Berlusconi è politicamente finito, ma Berlusconi ha voluto fare un favore a Renzi, sostenendo Marchini. È chiaro, il patto di Nazareno è vivo, forte e lotta contro gli interessi del popolo italiano. Renzi è sostenuto da Berlusconi, in cambio gli fa favori. Vi stanno mandando allo sbaraglio, sarebbe questa la vittura? Berlusconi si allea con Renzi per non vincere, non far vincere. No, magari per provare a far andare Giacchetti al ballottaggio, perché se Giacchetti non andasse al ballottaggio a Roma, Renzi gli scoppia il partito dentro. Perderebbe secondo me, se Giacchetti non andasse al ballottaggio a Roma, sarebbe evidente la sconfitta di Sala a Milano, sarebbe quasi una diretta conseguenza. Per cui Berlusconi quando Renzi ha bisogno, immediatamente si alza in piedi e gli porta aiuti. È successo in Senato dandogli al Fano, quando non bastava al Fano gli ha dato Verdini e oggi ha sostenuto Marchini. Si sa, Berlusconi e Renzi sono la stessa cosa, Renzosconi, da sempre, lo diciamo da sempre noi PDL e PD-L.